Non salire! Ehi, ciao mamma! Abbiamo costruito una torre super gigante per telefonare! È alta 6 volte me! E potrai sentire anche i nonni! Bene, bella notizia! E ti telefonerò tutti i giorni adesso! Ascolta Tutule, sono molto occupata, facciamo che ti richiamo io, ok? A presto tesoro! Tutule, tutto bene? Dice che è occupata. A mia madre importa solamente del lavoro. Tiriti forte! A mia madre, a mia madre, a mia madre! Grazie a tutti.